Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi volevo parlare un pochino di Dragon's Dogma 2 e della sua difficoltà. Perché, ragazzi, a me sembra che il gioco sia stato tarato un po' male a livello di, appunto, difficoltà. L'avevo accennato già in altri video che il gioco mi sembrava un po' semplice, ma ha raggiunto i medi e soprattutto, diciamo, alti livelli, anche se in realtà adesso sono a livello tipo 48 e in realtà si potrebbe arrivare probabilmente anche al 100, quindi è difficile anche dire che è un livello alto, in realtà dovrebbe essere un livello medio. Il gioco è già completamente distrutto, secondo me, nel senso che la potenza del nostro personaggio, del mio personaggio, del mio party, è totalmente superiore a praticamente tutto il contenuto presente nel gioco. Quindi faccio questo video anche per vedere un po' e confrontarmi con più persone, giustamente, per vedere un po' anche cosa ne pensate voi delle difficoltà. Perché in Dragon's Dogma 2 non ci sono livelli di difficoltà da scegliere, ce n'è unico che si adatta a seconda delle vostre, diciamo, prestazioni. Più andate bene, più in teoria le cose sono difficili, più andate male, quindi morite, più le cose dovrebbero essere semplici. Il punto è che mi sta mancando tantissimo una difficoltà selezionabile verso l'alto. Mentre nei primi livelli il gioco era abbastanza bilanciato, a mio avviso, e anche impegnativo, stiamo parlando dei primi, boh, di 15-20 livelli, ok? Una cosa del genere. Quindi andando a esplorare magari un po' oltre, si beccavano nemici un pochino più alti di livello, anche se il livello non è menzionato, si percepiva questa cosa, cioè magari trovavate degli orchi armorizzati che magari potete trovare anche vicino alla prima capitale degli umani quando ancora siete a livello che ne so, 12, 13, 14, qualcosa del genere, e lì avete delle difficoltà perché effettivamente vi fanno parecchio danno. Nei primi livelli non siete neanche particolarmente vestiti bene, ancora avete pochi soldi, avete fatto pochi upgrade, o quasi nessuno, e anche voi magari non sapete giocare benissimo, e le classi che state giocando sono basse di livello. Tanti fattori che, a mio avviso, rendono il combattimento, che è molto molto divertente, a me piace tantissimo, anche sfidante. In particolare poi quando scende la notte, quindi non si vede niente, ci sono nemici più difficili, ci sono nemici più aggressivi, ecco tutto questo nei primi 20 livelli, secondo me è molto soddisfacente. Ma man mano che si va avanti, e quindi si supera il 20, 25, 30, si arriva a un punto in cui si hanno magari delle classi maxate a livello di vocazione, quindi siete magari anche 8, 9, 10. Nel frattempo il livello del vostro personaggio continua a salire senza sosta, quindi avete ancora più statistiche, cominciate ad upgrade gli oggetti, e tutto il vostro party, mediamente, è del vostro livello. Addirittura potreste anche recrutare pedine anche più alte del vostro livello medio. Ecco, in quel momento il gioco praticamente si disintegra, almeno per quella che è stata la mia esperienza. E una volta superato il 35, 40, non ci si diverte più onestamente a combattere, perché anche arrivando alle zone finali del gioco, e io praticamente ho visto il 90% della mappa, non c'è una singola sfida che sia una. Gli unici nemici che rimangono temibili sono i draghi, ma in realtà solamente perché non li conoscete abbastanza, perché una volta che capite come combatterli, anche i draghi sono molto semplici. E sui draghi in realtà non ne vorrei parlare troppo, vorrei fare un video a parte. Quindi praticamente non rimane più niente di realmente impegnativo, cioè il divertimento è semplicemente bisciottare quasi tutto ed esplorare la mappa per il gusto di esplorarla, per il gusto di trovare tesori. E anche l'equipaggiamento non serve ottimizzarlo chissà quanto, tant'è che a un certo punto diventa una sorta di fashion game, a un certo punto, cioè vi mettete i vestiti più belli, perché non è così necessario avere le statistiche particolarmente maxate. Con tutto che ci sarebbero degli extra potenziamenti, anche interessanti, perché tutti gli equipaggiamenti possono essere upgradati tre volte, ma c'è anche un quarto grado speciale. Il grande problema in realtà è che non ci sono arrivato, perché sto un po' tergiversando prima di finire il gioco, per il semplice fatto che so che una volta finito il gioco non si può continuare ad esplorare, ma bisogna per forza continuare in New Game Plus. Però dico, so che anche in New Game Plus in realtà il livello di difficoltà non sale, come di solito sono in New Game Plus. Cioè una volta che siete arrivati al massimo del modificatore di questo livello di difficoltà che si adatta, comunque non potete andare oltre. Quindi praticamente quella è la difficoltà. Ok, nel New Game Plus probabilmente, ora non sono sicurissimo, ma probabilmente riniziate senza nessun oggetto, solo con le statistiche, magari il livello e il livello di vocazione, ma non con oggetti, quindi ovviamente iniziate più scarsi, però fino a un certo punto. Insomma, cosa voglio dire? Che purtroppo, per quanto sia interessante, divertente, almeno per me, questo sistema di combattimento, molto velocemente, cioè dopo una quindicina, ventina di ore, comincia a diventare molto molto semplice per poi diventare praticamente triviale. Ed è un vero peccato, ed è un vero peccato, perché questo è proprio, secondo me, il fiore all'occhiello del gioco e mi dispiace non avere una sfida interessante, anche perché esplorando comunque le varie vocazioni, quindi le varie classi, si possono fare anche belle combo interessanti, ci sono delle belle interazioni a livello di stordimenti, salire sui nemici, fare combo anche con i vostri compagni di gruppo, utilizzare la fisica, gli oggetti anche che si trovano nel campo di battaglia e tutto quanto, però poi ovviamente se tutto diventa troppo semplice, se poi ogni volta che si dà un colpo si leva mezza vita a un nemico, oppure una volta che uno arriva e sale sul punto debole bastano pochi colpi per togliere un'intera barra di vita, diventa appunto tutto super triviale. Nonché ho notato che alcune classi hanno veramente dei sistemi di difesa assurdi, letteralmente stiamo parlando di invulnerabilità di gruppo, ok? Quindi insomma, diciamo che il bilanciamento non è stato particolarmente curato, almeno a medi e alti livelli. Quindi ci troviamo un gioco difficile all'inizio, perché non si conoscono le meccaniche, perché si è comunque deboli, e si è in mezzo a un mondo che comunque può essere potenzialmente pericoloso, se si va troppo avanti appunto, dato che la posizione e il livello dei nemici è praticamente fissa. Mentre poi più si avanti nel gioco, invece di aumentare le sfide, praticamente diminuiscono, anche se poi in realtà il combat diventa più divertente, perché abbiamo più strumenti a nostro vantaggio. Insomma, fatemi sapere un po' anche come la vedete voi, la vostra esperienza, però io spero vivamente che facciano qualche cambiamento, o perlomeno inseriscano una modalità hard, non dico hardcore, però più difficile comunque, o banalmente una modalità dove i nemici si adattano al livello di potenza del nostro personaggio, del nostro party, ok? Potrebbe essere così. C'è in tanti altri giochi una cosa del genere. I nemici si adattano in maniera dinamica alla potenza del personaggio principale. Renderebbe questo combat system decisamente molto più interessante. Bene ragazzi, per questo video è tutto, vi ricordo che in questa playlist ci sono altri video e anche delle guide su Dragon's Dogma 2, nonché c'è anche la mia prima impressione di quasi mezz'ora e nel prossimo futuro arriveranno anche un paio di guide su un paio di classi, quelle che ho giocato di più, ovvero il ladro e il combattente mistico, il lanciare mistico. Lo Jedi, praticamente. Noi comunque ci aggiorniamo prossimamente per altri video qua sul gaming. Grazie per l'attenzione, statemi sempre bene, rimanete sintonizzati, ci becchiamo alla prossima. Ciao ciao!